Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Sono in corso i lavori di riqualificazione di via di Torbella Monaca nel sesto municipio. Il cantiere, iniziato a marzo, è a cura del Dipartimento Capitolino a lavori pubblici e a un costo di 3 milioni di euro di fondi giubilari. Le lavorazioni attuali su via di Torbella Monaca, fa sapere il Campidoglio, completano ed integrano il precedente stralcio dei lavori e interessano la tratta per circa 3 chilometri che vada via Casilina al raccordo in entrambi i sensi di marcia.